buongiorno buongiorno a tutti oggi è martedì 22 settembre una giornata strana vero cioè stamattina ci siamo svegliati un po tutti con il sapore della della sconfitta leggo messaggi un po in giro ovunque dove questo senso è abbastanza forte evidente io ieri pomeriggio ho fatto una diretta non so chi di voi l'ha vista in cui ho espresso un parere contrastante rispetto a questo sentimento e lo voglio rimarcare questa mattina ma con i numeri però con i numeri allora un apparente sconfitta che in realtà può trasformarsi in vittoria in ognuno di noi perché le cose vanno sempre analizzate sminuzzate messe al microscopio alla lente ingrandite per vedere nella realtà se essa sta come ce la raccontano è chiaro che i fautori del sì festeggino addirittura ho letto su un giornale che ne che ahimè leggo a fatica ma insomma il fatto quotidiano dove si dice addirittura che abbia vinto la democrazia ora non voglio tornare sui temi per cui sarebbe stato meglio far eh una vittoria del no non voglio tornare su questo voglio soltanto dire una cosa che sarebbe stato molto più preoccupato eh dalla dall'unione qualora fosse accaduta la sconfitta del no e anche un esito diverso sulle regionali che avrebbe magari comportato una caduta di questo governo e quindi una nuova legislatura che avrebbe potuto applicare immediatamente l'esito di questo referendum ok perché l'abbattimento del numero dei parlamentari è valido dalla prossima legislatura siccome però si sono acchittati il risultato sulle regionali facendo un pari e patta strategico andate a vedere chi erano gli antagonisti di quelli che hanno vinto eh questo perché è successo perché ovviamente la poltrona bisogna tenersela e quindi possiamo stare tranquilli che fino al duemila ventitré le cose resteranno così perché la finalità è quella e allora che vuol dire che noi del noi no abbiamo tre anni di tempo per organizzarci ok quello che possono fare avendo maggiore potere rispetto a un numero di parlamentari diminuito senza toccare legge elettorale e sistema bicamerale probabilmente potrà essere effettuato fra tre anni o non prima di tre anni nel frattempo voglio dirvi una cosa perché questa non è una sconfitta perché dovete andare a leggere i numeri dei di chi ha votato no sette milioni seicento novanta duemila zero trenta no sette milioni e settecentomila no senza che un partito l'abbia sposato il no senza che sia stata fatta una comunicazione ufficiale su giornali e televisioni a favore del no quindi vuol dire che sette milioni e settecentomila persone hanno acceso la testa hanno ragionato hanno pensato questi sono tanti e da questo bisogna ripartire da sette milioni e settecentomila persone che forse sono di più se consideriamo che l'affluenza al referendum è stata solo del quaranta per cento ma io voglio considerare i dati reali sette milioni e settecentomila persone hanno votato no hanno espresso il no ora il no io lo considero proprio l'espressione della libertà no e allora questo no però non ha senso se io non lo dico tutti i giorni che ha espresso no ieri crociando sulla scheda deve dire no tutte le mattine deve trasformare la propria esistenza ogni giorno con dei piccoli con delle piccole modifiche verso il proprio no verso il proprio dissenso educato civile legale legittimo votare no su quella scheda essere sette mila e settecento sette milioni e settecentomila per poi tornare a una vita da suddito mesta col cervello spento schiavizzati dal lavoro da rapporti personali che non funzionano da 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 regole inesistenti dentro casa da una vita priva di valori da una vita priva di informazione da una vita prima di studio priva di studio il no deve rappresentare un individuo un individuo che pensa un individuo che colma i propri gap un individuo che si informa un individuo che non si beve tutte le stupidaggini che gli vengono dette un individuo libero ma non soltanto nella circostanza del referendum sempre sempre essere liberi non significa essere rivoluzionari essere liberi significa essere padroni della propria esistenza e applicare questa mentalità in primis dentro le proprie case non ha senso fare rivoluzionari per poi nel frattempo avere una vita disastrosa avere famiglie in cui case dove regna il caos salute dove regna il caos appunto privati pensieri priva di voglia di studiare priva di principi questo vi voglio dire sette milioni e settecentomila persone sono tante sette milioni e settecentomila persone possono crescere possono condizionare dare l'esempio se questo no si applica in ogni circostanza della propria esistenza si mostra se questo no rimane morto dentro l'urna di ieri no quello non ha senso quella è la vera sconfitta quella sarebbe la vera sconfitta quella sarebbe una occasione persa sette milioni e settecentomila persone senza una comunicazione volta a quella a quella finalità senza che nessuno abbia spiegato quale fosse il reale fine di questo referendum eppure se non sui social se non sui social eppure sette milioni e settecentomila persone hanno pensato hanno ragionato hanno detto no il no ai soprusi il no a obblighi terapeutici il no a imposizioni ingiuste il no alla maleducazione il no all'assenza di rispetto il no all'annullamento del pensiero dell'individuo della sua identità il no alla paura il no alla paura il no al culto della paura sette milioni e settecentomila persone vi sembrano poche vi sembrano poche a me mi sembrano tantissime mi sembrano tantissime però questo no non si deve spegnere questo no deve insistere questo no non deve mollare ogni giorno ogni momento ogni istante con l'educazione il buon senso però non con la maleducazione non con la presunzione che il nostro no debba essere imposto perché saremmo gli stessi di quelli che ci vogliono imporre il contrario perché cadremo dalla parte del torto perché rovineremmo tutto in un solo colpo con azioni che non servono a niente con azioni soltanto mediatiche solo per fare scalpore il no deve essere un no che quasi che che passi quasi inosservato ma che sia di un'efficacia incredibile chirurgica tagliente partiamo dalle nostre case dal rapporto col nostro coniuge dall'educazione con i nostri figli dal rapporto con i nostri figli educhiamoli a essere menti pensanti in contrasto con quello che stanno facendo attraverso la scuola educhiamo sempre a pensare a informarsi prima di parlare a leggere a studiare a guardare a cercare l'altra faccia della medaglia che ci sta sempre sempre il no è una vittoria ieri è stata una vittoria 7 milioni e 700 mila persone una vittoria può essere una vittoria abbiamo tre anni e una vita intera usciamo da da dalla depressione dalla paura da 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 quello dalla trappola cioè chi se ne frega guardiamo la parte positiva guardiamo sempre la metà positiva giusta piena del bicchiere 7 milioni e 700 mila persone ci vediamo domani mattina alle 10 oggi tutte le mattine un esercizio no portiamoci sempre un no in tasca e torniamo a casa dopo averlo speso a domani